E' morto l'uomo ferito alla schiena ieri pomeriggio da un colpo di fucile a Zibido all'Ambro, frazione di Torre Vecchia Pia. Dopo il ricovero al Policlinico San Matteo era stato operato, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi. L'uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco già sul luogo della sparatoria, da cui era stato poi rianimato prima del trasporto in ospedale. Qui il ricovero e l'operazione, che purtroppo non ha potuto salvare la vita alla vittima. Rimangono gravi le condizioni della persona vittima della seconda sparatoria avvenuta nei pressi del centro commerciale di Landriano poco dopo il primo episodio. I due fatti sarebbero collegati e discenderebbero da regolamenti di conti nel mondo dello spaccio di droga. L'arma del duplice attentato è la stessa, un fucile a pallini. Le campagne del nord pavese sono da tempo segnalate come zone frequentate da pusher e le due vittime potrebbero aver pagato per vicende legate al controllo del territorio o comunque per affari sporchi. La morte del primo uomo colpito ieri pomeriggio non fa che aggravare la posizione degli esecutori ancora ricercati dalle forze dell'ordine. Un testimone avrebbe indicato in una Suzuki Inies di colore rosso l'auto con cui le persone che hanno sparato sono giunte sul luogo della prima esecuzione. La stessa auto sarebbe stata poi vista allontanarsi in direzione Milano. I posti di controllo che sono stati predisposti dalla serata di ieri non hanno per ora dato esito.